L'addio di Giovanni Iannicello, almeno dall'amministrazione comunale di Grotta Minarda. Ho bisogno di una pausa dopo dieci anni passati a governare il paese della Valle Ufita, ci dice il sindaco, eppure non esclude che a settembre possa annunciare un nuovo impegno politico. Nel frattempo si è dedicato a mettere nero su bianco il suo percorso politico-amministrativo all'interno della sede municipale. Ha scelto di farlo con un opuscolo di una sessantina di pagine dal titolo Grotta Minarda, risultati e prospettive per la nostra città. All'assessura del resoconto hanno collaborato Lucio Lanza, Paola Flamia, Rocco Villanova, Giovanni Terrazzano, Giordi De Luca, Michele Cappuccio, Rosaria Bruno, Antonio Romano, Silvio Schena, i dirigenti e dipendenti comunali. Ho scelto nel rispetto della legge ma anche nel rispetto della volontà amministrativa di produrre un opuscolo di facilissima consultazione dove c'è scritto il grosso e non la totalità dell'attività amministrativa che la mia persona con diverse amministrazioni, con diversi assessori che si sono succeduti in questi anni, quanto abbiamo prodotto? Ritengo che guardando questo opuscolo con attenzione si andrà a rilevare che è stato fatto tantissimo la produzione di iniziative in tutti i campi, sociali, culturali, opere pubbliche, infrastrutture nel generale. Noi riteniamo di aver prodotto quanto nell'epoca repubblicana era stato magari pensato, magari abbiamo dovuto correggere gli errori di quell'epoca perché c'era assenza di strumento urbanistico, cioè praticamente abbiamo posto in essere tante di quelle cose da farci immaginare che stamattina possiamo parlare di risultati della nostra attività amministrativa documentati e non propaganda fumosa, possiamo parlare di una prospettiva del domani della nostra città. Noi siamo stati così capaci, così attenti, così impegnati sulle grosse infrastrutture in particolare, tanto da poter dire oggi che siamo al centro di percorsi europei. Le questioni della ferrovia, la questione della contorsi, il terminal dell'AIR, la logistica, cioè siamo posti nella condizione che la sola posizione geografica che pure negli anni addietro era stata spessa rammendata e quasi sempre dimenticata è stata recuperata. Siamo punto di riferimento di una struttura universitaria di cui ci vantiamo, siamo riferimento di città dei servizi, abbiamo tantissimi altri servizi, mentre agli altri viene sottratta qualcosa qui a Grotta negli ultimi anni e spero che questo continui, si aggiungono sempre servizi, si aggiungono sempre disponibilità. Abbiamo creato un clima nell'ambito dei cittadini, Grotta si ricordava per essere sempre stata una cittadina litigiosa dal punto di vista sociale, ma in particolare dal punto di vista politico e negli anni addietro i sindaci cambiavano ogni sei mesi, ogni anno, non solo la legge ma anche la qualità della proposta, il modo di amministrare la cosa pubblica, la collegialità, la trasparenza, tutte queste questioni hanno fatto parte del mio costume, del mio modo di essere in collaborazione con gli assessori dei vari tempi, con i consiglieri delegati, ho istituito il fatto che alla giunta si partecipano tutti i consiglieri della maggioranza, con le varie deleghe. Ce l'ho messa tutta, questo sono stato capace di fare, questo è quanto ho prodotto, credo che il mio impegno politico a favore della mia comunità continuerà in altri ruoli, in altra posizione, sicuramente continuerà con l'amministrazione che mi succederà che non mi vedrà presente perché non sarò candidato a sindaco per la legge, a consigliere comunale per scelta, però la mia disponibilità nei confronti dell'amministrazione a cui consegnerò la campanella, forse il 26 se si vota il 25 perché la data non c'è ancora, ritengo che questo dato mi mette nella condizione di poter dire che per grotto sono state fatte le fondamente, sono state fatte le strutture, c'è ancora molto da fare. tutto questo ci mette nella condizione di poter dire stasera di essere stati sufficienti, forse è troppo poco, che voto mi darei? Molto più di 8, paragonati a quelli di prima e paragonati a quelli a fianco. Generalmente uno deve cercare di dire perché non si è fatto 10, non c'erano le condizioni, forse io non ero capace, aspetto quelli che vengono dopo. Io spero che siano almeno da 7.